Buongiorno amici, bentornati sul canale, oggi torniamo a parlare del trend più importante che c'è in Italia negli ultimi mesi, OnlyFans, che bello che è OnlyFans, con le iene che fanno un servizio praticamente su una latteria ambulante, scusate la volgarità ma alla fine come fa uno a non essere volgare quando, come potrete vedere anche voi, questa persona vive delle sue tette, cioè è una latteria, non è un'offesa, è un dato di fatto. Praticamente c'è quest'ultimo servizio che si chiama Morali, due punti, OnlyFans vende sogni o solide realtà ed è il 14 febbraio, ve l'hanno messo San Valentino così ovviamente i sei gaioli più accaniti potranno registrarsi a un nuovo profilo piuttosto lussurioso, molto rotondo. E questa tale, come si chiama, MediJo, non lo so, il suo nome mi è già scomparso anche se ho appena visto il video, perché mi posso ricordare altre cose, non il suo nome, ecco, dopo quello che ho visto. Quindi abbiamo le Iene che ci presentano questa OnlyFans che ha superato quelle di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, sapete che c'era 20.000 al mese, 30.000 al mese, siamo arrivati a 150, 100 trattino 150, 160.000 al mese, ho preso un po' di note anche perché sai non vorrei mai perdermi qualcosa di questi contenuti incredibili. in questi 22 minuti di propaganda su OnlyFans, ovviamente propaganda al profilo di una che non ha bisogno neanche di pubblicità perché ha un profilo con una quantità di viewers, di iscritti enormi, semplicemente per il fatto che ha due zinne così gigantesche e non ha neanche bisogno di farsi fare pubblicità dalle Iene, però alle Iene piace sempre fare beneficenza, aiutare le persone. Quindi il servizio inizia raccontandoci come sempre nel processo di normalizzazione OnlyFans sia una cosa normale, sia come fare il cameriere, sia come fare il professionista informatico, l'operario, la stessa cosa. Ormai è un lavoro accettato, non c'è neanche da mettersi il dubbio se sia una brutta o cattiva idea, se ci sia una morale dietro, se ci sia una conseguenza a lungo termine sul fatto che ci si espone, ci si mette nudi per le gioie di internet, dei database, dei server, dei data center, dei vari social media su cui ci si appoggia, questo non è neanche ormai più l'argomento di discussione. OnlyFans esiste, è un'opzione per guadagnare, 20.000, 30.000 li fa chiunque, il livello successivo è questo qua dei 100.000 perché sei un personaggio rarissimo e quindi ovviamente è riscuoti più successo. E appunto questa medigioca non è neanche antipatica francamente, erano più antipatiche alle ragazzine giovani che ho visto in altri servizi. Questa qua è una probabilmente quarantenne, lei si definisce una boomer e ci racconta come sia nato tutto. Ma prima di raccontarvi di lei vi dico due cose che mi sono interessate, sempre nel processo di analisi di come viene normalizzato tutto in merdalia. Dopo avervi detto ovviamente che c'è OnlyFans eccetera, le Iene hanno parlato di come la tassazione insomma sia un po' un problema e quindi hanno spiegato che si può andare a Dubai, si può andare in Spagna, si può andare in Albania, si può andare all'estero per non pagare le famose tasse in Italia perché alla fine se vi guadagno 30.000 al mese perché dovrei darne 15 al governo italiano per poi non avere nessun servizio indietro. Quindi spiegano che queste imprenditrici e imprenditori di successo che vendono il loro corpo si organizzano anche a livello fiscale, quindi vanno all'estero vanno in paradisi fiscali giustamente per ridurre i soldi che butterebbero in tasse perché vi ricordo che pagare le tasse è buttare via i soldi, le tasse sono un racket, sono semplicemente furto legalizzato e non mi venite a dire che servono per pagare la polizia e gli ospedali perché se fosse vero non avremmo gli ospedali che collassano e non avremmo la polizia inesistente ecco, ma quello come al solito sarebbe da perci una parentesi, le tasse sono semplicemente un furto legalizzato, quindi chi va all'estero per pagare meno tasse fa solo bene, che faccia only funds o che faccia qualsiasi altra cosa fanno solo bene, specialmente se questi soldi dovessero essere andati nelle tasche del fisco italiano, quindi chi va all'estero fa bene a pagare meno tasse, se può non pagarne fa ancora meglio, questa è pubblicità progresso. Detto questo, quindi le iene iniziano, parlano di questa professione, vi spiegano come si può andare all'estero per non pagare tasse e poi vanno a esplorare questo profilo di questa donna, ero in dubbio si chiamava donna o vacca, ma non vacca in maniera offensiva ma vacca nel senso delle capacità, come dire, di allattamento degne di un bovino, perché veramente sono enormi. E quindi lei racconta di come lei abbia iniziato tutto con un video TikTok, vedete come le cose che voi considerate in maniera errata, frivole, stupide e superficiali, invece sono le cose più importanti, cioè fare dei video su TikTok possono cambiarvi la vita. Lei fece un video su TikTok con una sua amica, fece un balletto qualche anno fa, mostrò le zine al vento coperta, mostrò le zine al mare e creò un profilo in pochi giorni o settimane raggiunse milioni di followers, ovviamente il motivo l'abbiamo capito qual era. Fece questo profilo Instagram TikTok, raccolse milioni di followers, cominciò a fare live su Twitch, ghiacchierare, giocava al computer e gli spara tutto, aveva tanta gente che lo seguivano, tanti segaioli, evidentemente. Quindi si creò questo seguito, però era frustrata, perché c'è anche un elemento di pathos, di sofferenza nel suo percorso, era frustrata perché non riusciva a capitalizzare tutti questi followers e la capisco alla fine, se c'hai tutta questa gente che ti segue è un peccato non riuscire a spillargli dei soldi. Però un giorno scoprì che c'era OnlyFans, i suoi followers le consigliarono di andare lì e nulla, da allora è cambiato tutto. Infatti per quello dico che non viene neanche antipatica, lei dice che ha fatto la cameriera per dieci anni, guadagnava mille euro al mese, poi ha cominciato a fare OnlyFans e le cifre sono cambiate in maniera importante. Infatti vanta, vediamo se riesco a farvelo sentire. Vabbè, e arriva fino a 160.000. Quindi lei riesce a fare in media 100.000, quasi 100.000 dollari ogni mese. E vive in Svizzera, quindi è anche intelligente, vive in Svizzera, bel posto, bella destinazione. La critico perché, vabbè, si è comprata la Taycan elettrica, quella è un segno di essere inferiore, probabilmente a questo punto mi viene a pensare che se c'è l'auto elettrica si sarà anche fatta i cosi, però non lo so, non la conosco, perché peccato per l'auto elettrica, devo dire. Comunque nulla, quindi lei viene presentata dalle iene e lei fa 100, 120, 140.000 al mese. Dice che ha anche incontrato dei fans dal vivo perché è andata in vacanza all'Ebama, se un americano l'ha riconosciuta, c'era uno che le pagava 5.000 dollari al mese. Quindi ci sono dei sei gaioli che pagano 5.000 al mese una singola persona per vedere video delle sue tette giganti. Rendiamoci conto che livello di imbecillità e di segaiolità c'è. Questo è evidente. Che altro mi sono segnato che volevo raccontarvi? Vabbè, ovviamente nel video racconta di come sia difficile fare la... comunque sia un lavoro, non difficile, ma che è un lavoro, devi fare tutti i vari video, devi promuoverti sulle varie piattaforme. E oltretutto al minuto 22.20, vediamo se riesco a farvelo sentire. Le chiedono... dov'è che era? 22.20... No, non è qua. Non mi sono segnato il timing sbagliato. D'ogni modo c'era un punto in cui le chiedono, ma una persona di 50 anni che mi arriva a lavorare e vede che tu fai 100.000 al mese e insomma lui fa 2000. Cosa ne pensi? È un'ingiustizia? Le fassi un'ingiustizia? Vabbè, comunque queste fanno i finti moralisti, fanno i finti buonisti, però intanto le iene promuovono come al solito questa merda, promuovono questo schifo di cosa come se fosse normale, come se passare da fare la cameriera a vendersi su internet sia una cosa normale di cui non ci sia niente da preoccuparsi. Poi chiama al solito, tra qualche domanda le fa, eh devi pensarci bene, se lo fai magari poi i tuoi video saranno online per sempre, però insomma alla fine, buh, io non lo so. Cioè questa è la normalizzazione, capite? La normalizzazione continua. Prendono anche una persona che non è neanche particolarmente maliziosa, una signora di 40 anni, tettona, ha scoperto che è pieno di cretini, sagarioli che la pagano e lei giustamente li spreme. Giustamente poi non è neanche giusto, perché anche come al solito c'è il discorso, ne vale la pena mettersi con le tette fuori per farsi pagare? Forse, forse sì, forse no, non lo so. Però le iene continuano. Mentre voi cretini studiate, pensate andare a lavorare, fare un lavoro normale dove prenderete 1.500-2.000 al mese, quando invece potreste semplicemente vendervi su internet. La normalizzazione continua e le iene partecipano a questo lavoro. Merdalia. Non solo merdalia, questo è merd mondo occidentale. Il declino. Il declino continua. Ci vediamo alla prossima puntata, perché a quanto pare non mancano i contenuti su questo schifo che ci attanaglia. Alla prossima, ciao!